Favara è bella, anzi bellissima, ma ha bisogno del nostro aiuto per migliorarsi. Sono sicuro che il 2013 sarà l'anno della svolta per Favara, ma affinché ciò accada dobbiamo unirci e impegnarci tutti per ridisegnare questo stupendo piccolo paese. Buon 2013 Favara e buona fortuna per la tua crescita. È stato questo il messaggio di augurio che Armando Giglia, il giovane favarese morto tragicamente ieri a seguito di un incidente stradale, aveva scritto lo scorso 6 gennaio sulla sua bacheca di Facebook. Un giovane, descritto da quanti lo conoscevano, pieno di vita e con tanta voglia di fare e cambiare questa città. Vita che purtroppo è stata spezzata da un incidente in via Magellano alle Dune. Il 27enne viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly all'altezza del Bivio per via degli Imperatori quando ha avuto lo scontro con una Fiat Bravo guidata da un agrigentino di 38 anni. Schianto che, nonostante il casco di protezione, non ha lasciato scampo al centauro che è morto sul colpo. Stesso luogo dove qualche tempo fa era scampato per miracolo alla morte, perdendo però un suo caro amico. Il 27enne Armando Giglia di professione era responsabile marketing della Farm Cultural Park di Cortile Bentivegna a Favara. Amava il suo lavoro, era molto conosciuto in città per la sua professionalità e correttezza. Ma il sogno di Armando, quello di vedere ridisegnata una nuova Favara, purtroppo si è infranto sull'asfalto di quella curva maledetta. Con molta probabilità l'ultimo saluto ad Armando verrà dato lunedì prossimo al cimitero di Piana Traversa.